Ehi, mi mancavano! Che è successo proprio? Aspettate un secondo, pare che ci sia l'ultimo messaggio insieme. Giunto? Niente, non ho mai trovato, non mi trovo, ma come lo dico questa cara? Questa cosa a casa è vecchia, non si può fare troppi problemi, troppi casini, troppa precarietà. Mi sa che ce ne vediamo a Niccia, io sto a Niccia alla fiera dell'automobile. Qui avevi sbordato una seratina, diciamo un po' di amicizia, non c'era una mania, però c'è niente proprio deciso, c'è da un chino e mezzo della forchetta a testa, vedete che si può fare. Quindi sbrigatevi, vedetevi gli strumenti, vedete qua. Appena arrivate, salite sul palco, fate una cosa così, popolare, romanesca, rosse, va bene? Dai, tu aspetta Niccia, tu aspetta! Ciao, ciao, ciao! Ciao, 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 ciao! Ciao, ciao! Abbi me, che non ce stava capito di niente, dove stavo? Cos'è, ah, ecco l'arizzo! Arizzo! sentivo un certo pochino di pochetta finita pochetta allora sto con la carta se sto lì c'è non vorrei pure lasciarla non state attento alla parlata non che ci siamo stati molto attenti non è che siamo tanto contatti vabbè due ore di mangi magari fanno delle panadine a quella del giorno non c'è nessuno che ci aspetta ma le mangi è tutto attento vado comincio molto no ma se non non come io tutto il tempo che serve voi c'avete tempo ma stiamo qua però restate alzate per un'altra cosa io so che è stato c'ho una capoccia la natura e per natura non ne passò mai un sguardo esigente perché ciò non ha avuto senso ma io vado io so pesato e non mi fermo niente vado sempre avanti fino a me e guardo differente e non mi fermo sempre a te io so che è mio e sei pronto e sordo ma le tue parole sto tranquillo che me le ricordo qualche volta nel segno io so te croci quello che ti vuol faccio io so uno che comunque va le promesse le mani vien e poi nemmeno mi proprio vien perché so un muro eppure se t'ascolto fondamentalmente so sicuro che la tua idea è che è un figlio e io so nemmeno però se ancora un po' non mi piace la colpa è peggone e pace e ma non reso l'anima per importarti mua e se questo mi va è un figlio io so te chico dico in un senso simbolico c'ho un controllo diabolico e quindi artistico e ogni star c'è un sigo che c'è un sigo che sei capito ma non ci vuol io so di me perché la macchia mi piace ma è evidente che viene come il cortanimo non mi piace mi piace ma è evidente mi piace oh no io so my io so mi piace e io so ma mi piace non so ma ah